Musica Gravissimo incidente tra un'automobile e una moto necessaria all'eliambulanza per soccorrere il centauro Incidente in via orientale a Isernia 82N cade da un'altezza di 4 metri ricoverato in rianimazione Termoli Uomo tenta di farsi investire e poi aggredisce la donna al volante dell'auto Grave carenza di medici presso la cardiologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso L'Asrem avvia la selezione pubblica Rocca Mandolfi si prepara alla tradizionale gnoccata che quest'anno raggiunge la 29esima edizione Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TV Molise c'è la cronaca in apertura del nostro notiziario Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa lungo la statale 85 al confine tra Molise e Campania in territorio di San Pietro infine a seguito dello scontro tra un'auto e una moto un uomo di circa 60 anni è rimasto seriamente ferito e starebbe lottando tra la vita e la morte sul posto l'elisoccorso che ha trasferito il motociclista in una struttura sanitaria di Napoli intervenuto anche il 118 di Venafro oltre alle forze dell'ordine che stanno ricostruendo cause e dinamica dell'incidente E un brutto incidente è accaduto questa mattina anche a Isernia dove un pensionato di 82 anni è precipitato da 4 metri a causa del cedimento di un parapetto in legno nella zona di via orientale attualmente è ricoverato in rianimazione sul posto non appena scattato l'allarme i sanitari del 118 che dopo aver stabilizzato l'anziano hanno provveduto al trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Isernia le sue condizioni sono definite molto gravi e nella giornata odierna potrebbe essere trasferito all'istituto Neuromed In occasione dell'evento organizzato dall'ormai ex fondazione Gemelli che ha cambiato il suo nome abbiamo avvicinato il presidente Roberti per sentire le novità in programma per la sanità regionale il nuovo governatore ha promesso un deciso cambio di passo e preannuncia un incontro col ministro Schillaci l'intervista del nostro direttore Enzo Di Gaetano La questione sanitaria è uno dei dossier più pesanti lasciati in eredità al nuovo presidente della regione Roberti un problema con tante sfaccettature dagli appalti al personale insomma c'è tanto da fare, da conoscere e il governatore ha già programmato una sua linea d'azione da concordare in un incontro con il ministro della sanità Schillaci Abbiamo un incontro con Schillaci il primo di agosto Il ministro Giorcetti dove andremo a definire la squadra per poter fare un cambio completamente di passo all'interno dell'ASN perché ancora oggi ci sono, così come mi sono state prospettate dove in questo momento stiamo cercando di fare una ricognizione molti buchi e molte ombre quindi è arrivato il momento di fare anche chiarezza su tutto quello che sono gli appalti, i servizi che devono essere coerenti sia con la qualità sia con il prezzo non possiamo continuare a avere servizi che ci costano rispetto ad altre regioni il doppio con un pessimo servizio quindi capire come mai si continuano con le proroghe e non con i nuovi appalti quindi riorganizzare la macchina amministrativa la centrale unica di committenza mettere in piedi tutto ciò che in qualche maniera esistono nelle altre regioni in questa regione siamo rimasti con pochi dirigenti poco personale e anche bisogna spiegare come mai in una regione come quella del Molise con 290.000 abitanti ci sono 3.100 operatori sanitari in regione con sanità di 500.000 abitanti ce ne sono 2.100 allora bisogna dire c'è carenza di risorse umane o queste risorse umane stanno imposti ed impiegate in maniera sbagliata quindi come vedete è un lavoro da farlo con praticità con pragmatismo, poca filosofia e il nuovo presidente intervenendo all'evento organizzato dall'oramai ex fondazione Gemelli ha confermato che i nomi possono anche cambiare ma non ci sono problemi se la qualità resta la stessa il nome si può cambiare la differenza lo fanno le persone l'ho già detto quindi siamo certi che questa è una struttura di eccellenza che potrà collaborare e potrà avere la perfetta integrazione con la nostra sanità perché è una sanità accreditata e che possa dare servizi efficienti alla collettività ecco troviamo il giusto equilibrio all'interno di un territorio che potrebbe fare la differenza anche in termini sanitari e che la sanità può essere un volano di sviluppo anche per questa regione si è svolta nella mattinata di oggi giovedì 20 luglio l'esercitazione di soccorso in galleria annunziata lunga in territorio di Venafro San Pietro infine per diverso tempo la galleria è rimasta chiusa per permettere ai soccorsi di entrare in azione all'esercitazione hanno preso parte ANAS 115 Polstrada di Isernia Carabinieri di Venafro 118 poco prima delle 12 circa si è conclusa l'esercitazione con la riapertura al traffico della galleria interessata biblioteca provinciale di Isernia il presidente dell'ente Alfredo Ricci punta alla riapertura della struttura avvieremo un dialogo col nuovo governo regionale per restituire la Momsen ai cittadini vediamo la biblioteca provinciale Momsen è stata da sempre un punto di riferimento sia per gli amanti della lettura sia per centinaia di studenti che nel corso degli anni si sono avvicendati tra i suoi scaffali per preparare tesine, relazioni ed esami universitari uno spazio che oggi è chiuso nonostante gli sforzi della provincia con grande ramarico degli utenti che ne invocano la riapertura il presidente di Via Berta Alfredo Ricci nonostante i limiti imposti dalla legge del Rio che ha tolto agli enti provinciali le competenze in materia di cultura e turismo era riuscito a ritardarne la chiusura reperendo di volta in volta fondi regionali fino al 2022 quando l'ultima richiesta di finanziamento è rimasta lettera morta oggi con la nuova legislatura regionale Ricci spera di poter tornare a ricevere il supporto economico necessario a restituire la biblioteca alla comunità Pentra è un tema che sta a cuore a tutti noi purtroppo nell'attuale contesto della legge del Rio che ancora c'è la provincia non può impegnarsi su tutto ciò che riguarda la cultura e il turismo è un'assurdità ma così è perché questo tempio della cultura c'è c'è sui Sernia la chiusura al pubblico comporta un disservizio per tutti coloro che in qualche modo a questa realtà hanno sempre fatto riferimento noi in passato, negli ultimi anni siamo riusciti ad andare avanti con dei contributi straordinari che venivano dalla Regione di cui avevo sollecitato la conferma quando stava per scadere a fine 2022 non ho mai avuto una risposta a dire il vero dall'allora governo regionale ovviamente con il nuovo governo avvieremo un dialogo anche su questo perché credo che queste istituzioni debbano essere garantite sul territorio in attesa ovviamente sperando che ciò accada che alle province vengano restituite queste funzioni perché altrimenti avere una istituzione culturale di questo livello senza poterla far fruire dai cittadini è davvero un peccato in ogni caso, ha rimarcato il presidente la provincia in questi anni ha continuato ad investire sulla Momsen nonostante la chiusura noi però continuiamo a scommetterci l'anno scorso dopo 15 anni per la prima volta sono stati acquistati dei libri grazie a un contributo che abbiamo ottenuto dal Ministero della Cultura quest'anno abbiamo partecipato nuovamente a quel bando perché vogliamo continuare a credere per quello che è possibile alla biblioteca provinciale e andiamo a Termoli dove nella serata di ieri a Riovivo un uomo come riferisce termolionline.it ha tentato di farsi investire e ha poi aggredito la donna al volante dell'auto la donna stava rientrando a casa quando l'uomo si è gettato appeso morto sulla vettura non si sa bene per quale motivo gettando nel panico la signora sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Termoli che a fatica sono riusciti a fermarlo e a condurlo poi in caserma e lo scorso 7 luglio la prefettura di Sernia ha formalmente comunicato ai comuni interessati la graduatoria allegata al decreto del Ministro dell'Interno emanato lo scorso 23 giugno in base alla quale sono stati ripartiti fondi destinati al rafforzamento della sicurezza urbana attraverso progetti per la realizzazione di impianti di videosorveglianza il comune di Sernia risulta essere fra gli assegnatari di questi fondi ed ha ottenuto il finanziamento del proprio progetto del valore complessivo di oltre 190.000 euro e per il quale l'amministrazione si è impegnata a cofinanziare una quota di poco inferiore al 50% giù le mani dai terreni fertili il comitato 4 giugno che riunisce confederazioni agricole, imprenditori, parroci chiede un incontro con il neo eletto presidente della regione Francesco Roberti sentiamo Francesco Adanno il comitato 4 giugno torna a tonare sulla questione legata all'eolic offshore e lo fa considerando il nuovo massimo interlocutore in regione il neo eletto presidente Francesco Roberti infatti il comitato chiede un incontro per rappresentare il pensiero degli agricoltori che gridano con fermezza basta rinnovabili sui terreni fertili infatti l'oro e parliamo delle massime confederazioni agricole col diretti CIA imprenditori agricoli del Basso Molise titolari di strutture ricettive compreso i parroci che affermano che difenderanno le coltivazioni agricole di qualità che insistono sui territori pregiati non sacrificabili all'eolico loro sono invece favorevoli all'eolico offshore sostenibile e compatibile con le attività turistiche e di pesca già prima delle elezioni regionali il comitato aveva testimoniato i tre candidati presidenti la propria istanza finalizzata al rifiuto di ogni concessione ai soggetti che chiedono di installare ettari di pannelli fotovoltaici sui terreni fertili certo la questione non è di facile svolgimento infatti accanto al comitato 4 giugno che esprime questa posizione a tutela dei terreni fertili esistono altri comitati che invece si oppongono al progetto presentato dalla Maverick e dall'idea di un impianto eolico in mare se non a certe condizioni che tengano conto dell'ambiente marino delle risorse ittiche e conseguentemente delle esigenze dei pescatori morisani posizioni delicate che renderanno impegnativa la decisione delle istituzioni riguardo le concessioni intanto il Movimento 4 giugno chiama raccorti i sindaci invitandoli a convocare consigli monotematici sul tema verificata la grave carenza di personale medico al servizio dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso e al fine di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio l'ASREM con una delibera del commissario straordinario Evelina Gollo corre ai ripari e avvia la procedura selettiva pubblica mediante valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali per il conferimento di otto incarichi libero professionali a medici specialisti Isernia da subito al lavoro per la città l'esponente di Fratelli d'Italia entra in consiglio comunale al posto di Lancellotta metterà la sua esperienza al servizio di un'opposizione costruttiva per risolvere i problemi più urgenti di Isernia vediamo determinato a mettere a disposizione il suo impegno e la sua esperienza politica per dare un contributo positivo all'amministrazione con un'opposizione costruttiva e non distruttiva seppur pungente per risolvere quelli che a suo avviso sono i problemi più stringenti della città è l'obiettivo preannunciato da Eugenio Cnianischi che nel corso dell'ultimo consiglio comunale ha visto formalizzare la propria surroga e convalida quale consigliere di Fratelli d'Italia dopo le dimissioni della parlamentare Elisabetta Lancellotta sono felice di tornare a sedere tra i banchi dell'assiste civica del comune di Isernia continuo la mia esperienza politica come amministratore comunale è la mia terza elezione ho un'esperienza da assessore e sulla base di questa esperienza spero di riuscire a dare un contributo positivo a questa amministrazione che finora è parsa forse un po' troppo silente e carente in quelle che sono le necessità dei cittadini per Cnianischi occorre rimboccarsi le maniche da subito per gli interventi di cui la città ha più urgente bisogno l'ordinario lo sfarcio dell'erba la deratizzazione dare maggior impegno a quelli che sono le problematiche della scuola ma del cittadino in comune io ho visto da cittadino in questo anno e mezzo abbondante che è passato una calma piatta come se un malato sia lasciato a morire sul suo letto d'ospedale e questo non va bene c'è bisogno di molta più attività da portare avanti c'è bisogno di rimboccarsi le maniche c'è bisogno di fare quello che questa amministrazione ad oggi non è stata capace di fare ovvero quella di assumersi delle responsabilità un impegno quello di Cnianischi che dai banchi di Palazzo San Francesco mirerà al consolidamento del centro-destra locale gli obiettivi principali io farò opposizione certo non un'opposizione distruttiva ma un'opposizione quanto più costruttiva possibile sarò pungente indubbiamente fa parte del mio carattere cercherò di pungolarli quanto più possibile per spronarli a cercare di fare bene per la nostra città e costruendo dai banchi dell'opposizione il futuro della prossima coalizione di centro-destra che si preparerà da oggi ad amministrare la città di Sernia Davide Avicolli è il nuovo presidente della Proloco di Isernia prende il posto di Michele Freda Freda era stato riconfermato alla guida della Proloco a giugno dello scorso anno con Avicolli che ricopriva il ruolo di vicepresidente nella chiesa di San Martino di Castel San Vincenzo un convegno che ha analizzato dalla figura di Maria nella cristianità orientale e occidentale un dialogo tra due mondi apparentemente lontani vediamo il servizio realizzato da Caterina Gianfrancesco per la prima volta due mondi cristiani apparentemente lontani dialogano fra loro dando vita ad un incontro di straordinaria valenza Maria da Oriente ad Occidente è il titolo del convegno organizzato da Giancarlo Pozzo nella chiesa di San Martino di Castel San Vincenzo un momento di confronto tra i maggiori esperti mariologi della cristianità orientale ed occidentale che ha voluto ricordare anche la figura di Sant'Ambrogio Outperto abate di San Vincenzo al Volturno negli anni 777 e 778 d.C. definito il primo mariologo della cristianità occidentale relatori del convegno padre Germano Mariani rettore del pontificio collegio Russicum padre Gianmatteo Roggio consigliere della pontificia Accademia Mariana Internazionale con la moderazione di Monsignor Claudio Palumbo vescovo di Trivento presente oltre all'autorità militare civile e religiose del territorio l'abate di Monte Cassino e dell'abbazia di Castel San Vincenzo Don Antonio Luca Fallica un primo incontro al quale ne seguiranno altri che vuole fare del dialogo l'arma per guardare al futuro della cristianità e per superare anche le problematiche che affliggono il mondo contemporaneo questo è fondamentale perché altrimenti perdiamo le radici della nostra cultura noi abbiamo ricevuto le immagini di Maria dall'Oriente e poi dopo piano piano le abbiamo interpretate in un modo diverso rispetto a come erano state fatte modo diverso non nel contenuto della fede quindi non che cambia la fede cristiana ma tutto quello a cui quelle immagini fanno pensare questo sì questo diverso una storia quella legata all'abbazia di Castel San Vincenzo molto importante per la storia della cristianità l'abbazia di San Vincenzo al Volturno ha una matrice farfense dunque imperiale perché i tre giovani fondatori vennero dirottati qui alle fondi del Volturno dall'abbate Tommaso di Morienna che era a base di Farf però fin dagli inizi accoglie anche altre matrici spirituali politiche culturali per esempio il papato per esempio il mondo longobardo ed il mondo carolingio ecco qui effettivamente c'è un po' il crocevia potremmo dire uno snodo politico culturale sociale economico per tutta quanta l'Italia meridionale nel gioco che c'è appunto tra le tre forze Longobardo Franco e Papato abbiamo accennato poco fa la controversia tra i due abbati l'uno Franco appunto Autoperto e l'altro Longobardo Potone e questa controversia con l'interesse in prima persona di Carlo Magna e del Papa Adriano I e la dice lunga proprio sulla importanza di questa abbazia così grande dell'Italia meridionale Patrick Zacchi è libero il presidente egiziano Assisi gli ha concesso la grazia la notizia arrivata nelle ultime ore ha commentato il presidente della regione Molise Francesco Roberti pone l'attenzione non solo sulla capacità di mediazione del premier Giorgia Meloni ma anche sull'attività portata avanti dal ministro degli esteri Antonio Tajani che negli ultimi mesi ha svolto diverse missioni in Egitto proprio per cercare di trovare una soluzione definitiva per Zacchi complimenti al governo italiano Sepino sono iniziati ieri sera con la rappresentazione della traviata di Verdi i festeggiamenti in onore di Santa Cristina ce ne parla Francesco Adamo Conosciamo la devozione del comune di Sepino nei confronti di Santa Cristina una devozione che si esprime con riti e manifestazioni in vari periodi dell'anno ma certamente a luglio si vivono i riti e i festeggiamenti principali il comitato feste ha messo su un programma che accanto alle festività religiose che avranno il clou il 24 luglio con le solenni celebrazioni alla presenza dell'arcivescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Bregantini prevedono una serie di appuntamenti partiti il 19 luglio per terminare il 26 ieri l'inizio delle manifestazioni in Pompamagna con la presentazione della traviata di Giuseppe Verdi con la direzione artistica di Nicola Ziccardi un'opera che ha visto la partecipazione sul palco di 60 componenti fra cui 20 orchestrali Violetta interpretata da Giulia Maggio Giorgio dallo stesso Nicola Ziccardi la direzione musicale di Alessandro Alonzi l'orchestra opera studio Molise la piazza Nerazio Prisco che ha ospitato l'evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale era gremita in ogni ordine di posto ed ha saputo dettare i tempi dell'opera con una sentita partecipazione come dicevamo ieri il primo di una lunga serie di eventi che vedranno i martiri di Santa Cristina l'incontro con lo storico Franco Valente che parlerà della traslazione delle reliquie della Santa fino al concerto del 25 luglio con Fausto Leali si intende che l'ospitalità sepinese sarà espressa dalla presenza di stand gastronomici che accompagneranno tutte le giornate dei festeggiamenti è prevista per lunedì 24 luglio a Isernia lungo viale dei pentri l'apertura del McDonald's nel locale lavoreranno 65 persone a partire dalle ore 11 per l'occasione si terrà una speciale festa di inaugurazione aperta a tutti con taglio del nastro e giochi per i più piccoli il nuovo ristorante di Isernia sarà aperto tutti i giorni 29esima edizione della gnoccata a Rocca Mandolfi e festeggiamenti al patrono San Giacomo Maggiore specialità culinaria da provare assolutamente per chi martedì 25 luglio transiterà nel borgo dei briganti per degustare gli gnocchi preparati dalle mani esperte delle donne roccolane vediamo il servizio realizzato da Fabrizio Fusco non vi è donna Rocca Mandolfi che non sappia preparare gli gnocchi il borgo madesino non disperde la tradizione e la sapienza gastronomica tramandandola da madre in figlia da generazioni remote la gnoccata che paescena da circa 30 anni in occasione dei festeggiamenti al patrono San Giacomo non è soltanto un appuntamento con una bontà che edizione dopo edizione vede aumentare esponenzialmente le presenze il sapore genuino e ammagliatore degli gnocchi fatti a mano come si usava una volta è la sintesi dei prodotti a chilometro zero del territorio patate, farina pomodori salsicce e gli aromi che servono a insaporire il sugo sono l'espressione finale del lavoro sui campi matesini il successo di questa sagra è da ricercare nell'impegno e la dedizione delle donne del paese va a loro il plauso di questo bel momento dell'estate monisana un lavoro stratosferico che inizia il giorno precedente per impastare tanti chili di farina vento popolare tour farà tappa domenica prossima 23 luglio a Campitello Matese sarà Eugenio Bennato il protagonista del primo concerto gratuito di Montagna Molise realizzato in collaborazione con l'associazione Tecne l'artista partenopeo sarà in compagnia di Vincenzo Lambiase alla chitarra classica ed elettrica della ballerina Sonia Totaro e di Stefano Simonetta al basso chitarra acustica e voce e questa era l'ultima notizia adesso per noi c'è il meteo il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino benvenuti al meteo di TV Molise come preannunciato i modelli mostrano una lenta regressione dell'anticiclone africano che seppur ingloberà la nostra penisola avrà i suoi massimi altopressori più a sud orientativamente in territorio libico ciò comporterà una leggera diminuzione delle temperature specie nei valori massimi per la giornata di oggi giovedì 20 luglio sulla nostra regione il sole sarà protagonista indiscusso con temperature oltre alla media stagionale ma con valori più bassi rispetto ad inizio settimana 20 dei quadranti sud occidentali mare calmo temperature Campobasso minima 20 massima 36 Sernia minima 21 massima 36 Termoli minima 27 massima 34 Venafro minima 21 massima 37 previsioni per domani venerdì 21 luglio per la giornata di domani avremo condizioni stabili con tanto sole ed elevato umidità lungo la costa nelle aree sublitorane e nei territori di pianura e bassa collina si segnala una leggera ulteriore diminuzione delle temperature nei valori massimi con valori che si avvicineranno alla media pur restando ancora di qualche grado al di sopra 20 dei quadranti sud occidentali mare calmo temperature Campobasso minima 19 massima 35 Isernia minima 21 massima 35 Termoli minima 26 massima 35 Venafro minima 20 massima 38 Con le previsioni del tempo è tutto grazie per essere stati con noi e buon proseguimento Grazie a tutti